ero tra le montagne e dopo sono arrivato poi su un prato che ero anche stanco e dopo sono arrivato poi su una spiaggia che era in versione notturna e dopo che fatto questa avventura posso anche dire che sono contento e spero che questo video sia bello ciao e ci vediamo ai miei prossimi video